Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Buongiorno agli amici di Social Podcasting. Sono Mario Saccomanno e per Alma Poesia oggi vi leggo alcuni versi tratti dalla Sillo Gemal di Maggio di Antonio Lillo, una raccolta pubblicata nel 2022 da Samuel Editore. Nello specifico leggerò il componimento intitolato Mela Povera. La mia scrittura è povera perché io stesso povero mi vedo, impoverito e secco. Sono un ramo che spreme dal suo frutto per dirsi ancora vivo. Rubo alla mia opera un motivo per resistere di un'ora e mi trascino per mesi con la scusa prima che ceda o cada concimare terra non raccolta né mangiata da nessuno né la povera. Social Podcasting. Your Digital Friends.